Partita male, capace di un grande recupero fino alla volata finale di grande successo. No, non è una scalata o una crono delle più classiche gare in bici. Stiamo parlando dell'estate lungo la riviera romagnola. Quella del 2015 sarà ricordata come una delle migliori degli ultimi anni. Oltre alla domanda interna, la spinta alla crescita è arrivata anche dai numerosi turisti stranieri. In lieve recupero pure il fatturato delle imprese. A fare i conti, anche se non ancora definitivi con la stagione che vorge ormai al termine, e a suo turismo con Fesercenti Emilia-Romagna. Complice il clima, l'anno scorso, elemento certamente penalizzante, giugno, luglio e agosto, quest'anno dovrebbero regalarci un aumento di presenze lungo le coste italiane del 2,9%, pari ad oltre 700 mila per notamenti in più, mentre il volume d'affari delle imprese è stimato al più 1,4%. Come detto, qui da noi la partenza non è stata brillante. I risultati peggiori sono stati registrati infatti nel mese di giugno, mentre in luglio e agosto si è assistito ad un aumento degli arrivi e delle presente lungo la riviera. Il dato sulle presente dovrebbe attestarsi al più 2,7%. All'aumento degli italiani si è aggiunto il più 3,9% di presenze straniere. Non solo mare, comunque. In regione è cresciuta l'affluenza anche alle termine e ai centri benessere, più 2,7% rispetto al 2014. Bene anche l'Appennino, soprattutto grazie alle presenze straniere e i soggiorni nelle nostre città. Rispetto alle tipologie ricettive, il trimestre dovrebbe segnare il più 3,3% per il comparto alberghiero e il più 1,8% per la ricettività cosiddetta complementare.